DANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDAN smeritdatatata piccolo patufolo di catone let's go voglio rivelarvi un aneddoto che mi è venuto in mente in questo periodo mio padre è molto depresso diciamo per quello che sta succedendo alla sua clientela e insomma mi è venuto in mente quando aprì il ristorante quando mio padre aperto il ristorante, le sapete, il ristorante di mio padre, forse qualcuno ha visto le foto su TripAdvisor, è un ristorante che da fuori sembra molto lussuoso, forse lo è anche nel senso un ristorante diciamo di fascia medio alta, però insomma lampada reoni, la struttura è molto grande grande parcheggio, tettoia con i pannelli fotovoltaici, insomma quando apri era proprio un ristorante che spiccava rispetto agli altri, perché nella zona diciamo ristoranti così imponenti, importanti non ce n'erano, comunque c'erano pochissimi, allora nei primi mesi, dopo l'inaugurazione e dopo la clientela che arriva a manetta dopo appunto l'inaugurazione c'è la novità, c'è la voglia di provare eccetera, i clienti scarseggiavano tantissimo perché diciamo che nelle zone livornesi abituati ai ristoranti un po' più caserecci diciamo, allo street food eccetera si ha un po' più difficoltà o diffidenza nello spendere magari 40-50 euro a testa per una cena e ci può stare non lo metto in dubbio però se vuoi andare a mangiare bene roba di qualità insieme con un buon vino magari eccetera bisogna spendere purtroppo va bene fatto sta che c'era un viziaccio che avevano preso le macchine che entravano nel vialetto del ristorante che a mio padre proprio non andava giù qual era questo viziaccio? praticamente le macchine arrivavano davanti all'entrata del ristorante la gente che guidava guardava all'interno della sala così e poi faceva inversione a U tornava indietro e usciva del ristorante così per tutto il giorno tutti i giorni arrivavano e se ne andava così qualcuno si fermava qualche cliente mio padre ce l'aveva se no avrebbe chiuso vi spiego il perché mio padre stava lì davanti alla vetrina ormai li guardava questi tizi si incrociavano gli occhi mio padre li guardava così da dentro il ristorante loro guardavano da dentro il finestrino si guardavano sguardo alla Sergio Leone inversione a U e via la nostra supposizione qual era praticamente la gente spaventata dall'imponenza del ristorante dalla sala molto chic diciamo così pensava secondo noi ah cazzo qui si spende un botto via 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 che sapete che l'italiano ha bisogno di guardare all'interno per poter dare un range darsi un range di prezzo a un certo una giornata fu storica e fece ridere tutto il personale perché mio padre disperato e frustrato da questa situazione arrivò ad un insano gesto arrivò la classica macchina guardavo dentro e inversione a U al momento dell'inversione a U quando mi passi accorse che la macchina voleva scappare via mi passi uscì dal ristorante e si mise a rincorrere la macchina per parlare con il guidatore e chiede per che cazzo state facendo inversione a U porca troia fece come i cani con i cani e le macchine e presente il tizio vide mi pa che si avvicinava tipo il t-rex in Jurassic Park accelerò e scappo via poi questa cosa piano 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 si sgonfiò le macchine hanno iniziato a conoscere le macchine hanno iniziato a fermarsi i clienti hanno iniziato a conoscere il mio padre il posto a trovarsi bene adesso adesso ora siamo tornati un po' in quella fase lì le macchine non fanno più inversione U ma non vengono direttamente per la paura grazie a responsabilità per l'euro esatto esatto no ma quello speriamo di sì insomma questa è la storia però questo fenomeno poi è finito però mi chiappo il nasello ehi non farlo perché perché oggi è uscito un nuovo video di lesghede e quindi ci sono tanti momenti divertenti presi proprio dal canale Dario Moccia Twitch su Twitch allora non mi chiappo più il nasello non mi chiappo ho no 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 Alla prossima.